Si riuscì a rifiutare, è un'occasione di un po' di paneggio, poi dopo lì fa anche un po' di inizio, di fatica, tutto quello che hai creatato in questi mesi, in cosa incredibile, dove la fare? Mi senti di dire qualcosa sull'ambitaggio, anche se non vuoi altri, immaginati? No, per me è stato un abitaggio felice, ripeto, ma non me la sento neanche colarla l'arbitro, gli arbitri come ho fatto nel 2008, mi sembra, via via, sono stati diversamente, secondo me, come ho detto, svolgono, quest'anno, una volta sì, una volta no, insomma, per esempio le cose sono abbastanza equilibrato, non ho visto una cosa, certo, stasera non è stata un abitaggio felice, e abbiamo una volta, grazie a tutti, forse una disegnazione felice. Tre partite dal termine, Daniele, per la corsa a Scudetto cosa cambia? Ci troviamo, noi dobbiamo vincere tutti, ci troviamo, possiamo vincere tutti, ma noi non perderanno tutti, possiamo perdere solo punti, la Lazio, la Lazio fa la partita, come visto, comanda, l'Inter non vi piace. Quindi pensi sia finita? Eh, sì, dopo altre partite noi dobbiamo giocare, lo vediamo, secondo me, ripeto, c'è solo la Lazio che ha qualità, guardando anche le assistive, stimoli che, stimoli che possano fermare l'Inter, però sappiamo tutti che gioia, ormai sono sempre le nostre disgrazie, grazie, grazie.